Anche Silvan ci sarà il grande mago Silvan che è con noi. Silvan che è stato nominato lo scorso anno il mago dell'anno a Hollywood e che questa sera è con noi presenta una grandissima, straordinaria, incredibile magia. Silvan! Grazie, 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 grazie. Bene, questa è la quarta serata. Abbiamo trascorso insieme tre meravigliosi preserali. Questa è la serata di domenica sera, la serata importante. Io ho preparato qualche cosa non soltanto per voi bambini ma anche per le vostre mamme, per i vostri papà e per le persone che gentilmente si sono messe in questo momento, si sono sintonizzate, volevo dire, sulla prima rete, sul Rai 1. Signori, io ho preparato per voi un'autolevitazione. Come, come, come un'autolevitazione? Certamente, per la prima volta io voglio presentarvi un esperimento. Voi sapete quanto tempo impiego per presentare i miei esperimenti, soprattutto perché vengono quasi sempre gratificati dalla vostra simpatia. E vi ringrazio. Signori, fate attenzione perché fra qualche istante io cercherò di sfidare tutte le leggi fisiche e gravitazionali. Cercherò di sollevarmi a mezz'aria. E in questo galleggio, in questa sospensione, signori, la cosa più importante è quella di stupirvi ancora una volta. Osservate perché siamo in diretta, non ci sarà nessun stacco televisivo. Io peso 67 kg e sono alto 1,83 m. Va bene? Attenzione. Prego. Grazie a tutti. 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 E ci vediamo fra 30 minuti per un altro grande e grandissimo giocone in vostra contenzione. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sarà bravo, Silvan. Grazie a tutti. Grazie a tutti.